Buonasera, volevo precisare che il mio tweet di oggi era riferito a quelle persone che quando gli episodi non riguardano la Juve o la tirano in ballo di riflesso annaquando la portata dei fatti o tacciono o minimizzano o non danno risalto. A senso unico avvengono le cose, in senso contrario non si verificano. Tutto qua, questa è la disonestà intellettuale di cui parlavo prima. Fine del discorso. Qui non si vuole accusare nessuno se non il VAR, ma un discorso generale. Il VAR è stato introdotto per avere determinate certezze. Molto spesso, molto più spesso, fa il suo lavoro, ci sono casi in cui inspiegabilmente non riesce a farlo. Il fatto di oggi di San Siro è evidente, è un errore evidente. Come fu evidente l'errore in Juventus-Bologna? Perché bisogna essere onesti e dire tutto. Juventus-Bologna c'era un rigore per il Bologna. Quello del contatto di in giugno con un giocatore che non ricordo. Ce n'era forse anche uno per la Juve nel primo tempo su Chiesa. Potremmo citare tanti episodi di tante partite. Ok? Di tante partite. Certamente quello con il Bologna fu clamoroso. Come è stato clamoroso oggi? La gomitata di Bastoni. Ma non lo sto dicendo io. Non è una mia opinione personale. È uscito un post di Dazon che trasmetteva la partita. Ne stanno parlando tutti i siti principali, Spormedias e compreso. È uscita adesso proprio su Spormedias l'indiscrezione secondo cui Nasca verrà fermato. Nasca che era al VAR e che mi si dice non è la prima volta che commette determinati errori. Verrà fermato perché ci sono degli organi preposti a giudicare l'operato di arbitro, guardaline, quarto uomo e VAR. Il problema è che ci sono ancora troppi errori e dopo si scatenano tutte queste polemiche qua, compresa anche quella sull'onestà intellettuale. Ci mancherebbe, mi ci metto dentro con la premessa che ho fatto. Il problema è perché sbagliano? C'è poca professionalità? C'è superficialità? Io adesso non vado a credere al complotto, al campionato pilotato, falsato, eccetera eccetera. Ha parlato Sogliano, il direttore sportivo del Verona, ha detto delle cose molto pesanti. Ha detto questa è una decisione che è stata presa sopra il VAR. Si assume lui tutte le responsabilità di quello che ha detto. Lo ha detto pubblicamente in un'intervista, basta andarla ad ascoltare. Poi parla di mancanza di rispetto nei confronti del Verona. Lui si assume le responsabilità di quello che dice. Dice anche, o se vogliamo lo possiamo aggiungere, il Verona aveva avuto l'opportunità di pareggiare la partita al 95esimo, Henry ha sbagliato il rigore. Chi ha ribattuto di testa non ha centrato la porta. Ragazzi, se poi sbagli l'occasione che potrebbe mettere a tacere tutto, anche di questo ti devi assumere la responsabilità. Se il Verona avesse segnato il rigore si parlerebbe molto meno di quello che è successo prima. Essendo diventato determinante per il risultato, è chiaro che adesso ha un certo risalto. Ma gli errori restano, verranno fermati, ok. Però sono troppi. Se noi partiamo dalla prima giornata ad ora, la domanda che ti fai allora è il VAR per cosa è stato istituito? Quando scappano certe situazioni lapalisiane, evidenti. E allora io sono d'accordo con coloro che proporrebbero la chiamata del VAR per le squadre almeno una volta per tempo ciascuno. In quel caso, se il Verona avesse avuto la possibilità di richiamare l'attenzione del VAR, probabilmente l'analisi sarebbe stata più approfondita. E allora che si faccia però questo tipo di intervento? Perché altrimenti, ragazzi, non se ne esce più, perché poi dopo, viviamo nell'era dei social, esplode il mondo, esplode il mondo. E dopo ci sono i partiti che stanno da una parte, i partiti che stanno con l'altra, sì però poi l'altra volta, però qui gli altri l'altra volta, però... e si va avanti all'infinito. Che ci sia questa possibilità di chiamare il VAR. L'Inter è più forte del Verona e tutti si aspettavano che l'Inter battesse il Verona quest'oggi. Da Juve ha battuto il Verona al 94esimo, al 29esimo tiro fatto verso la porta del Verona. 29esimo! Evidentemente non è facile battere il Verona, però se una squadra è più forte, poi lo batte. Dopo il pareggio del Verona l'Inter ha giocato, e anche prima, l'Inter ha giocato nell'area del Verona. Quindi, voglio dire, le forze in campo si vedono, ed è proprio per questo motivo che allora gli errori assumono un risalto maggiore. Io sono di quell'idea lì, le chiamate del VAR affidate alla squadra, una per tempo. Forse si mette fine ad un certo tipo di valutazioni e quindi di conseguenze e aumenta l'attenzione di chi è messo lì a verificare. Detto questo, siccome questo è un canale che si occupa di Juventus, va da sé che la Juve ha il dovere, ma è ovvio, di provare a vincere anche domani contro la Salernitana per rimanere agganciata all'Inter. Perché se in tutto questo bailame e di recriminazioni, ma l'Inter doveva avere solo un punto oggi e non a tre e quindi il campionato, però se la Juve non rimane agganciata e domani non batte la Salernitana, cosa che si può verificare assolutamente, e poi è inutile che il mondo della Juve recrimini se poi la Juve non riesce a rimanere lì. Quindi la Juve adesso deve guardare esclusivamente a se stessa, al suo impegno di domani contro la Salernitana, e rimanere lì, agganciata, stop, senza andare a pescare ma perché a Milano. No, fine del discorso. Ma io sono sicuro che la Juve ragiona in questo senso, vorrei che anche il mondo della Juve ragionasse in questo senso. Non attaccarsi ad un alibi presunto, tale, nel caso in cui la Juve non dovesse vincere con la Salernitana perché la testa era e perché il VAR favorito, l'Int, no. Il VAR ha commesso un errore, madornale, madornale, certificato dai commentatori, ex arbitri, da moviolisti, di tutti quanti e anche dagli interisti, certi interisti, non quelli che poi ti tirano fuori le storie del passato, perché se cominciamo a tirare fuori le storie del passato, per tutte le squadre, non finiamo più, non finiamo più. Ok? La Juve deve pensare semplicemente a fare la sua parte domani con la Salernitana. Se non dovesse vincere contro la Salernitana non sarà servita a nulla tutta questa recriminazione, non da parte della Juve che non ne fa, ma da parte del mondo della Juve che in questo momento immagino, e lo sto constatando, è molto incazzato, che ha diritto di essere incazzato, per carità, ma che poi deve pensare alla propria squadra e a sostenere la propria squadra. Iscrivetevi al canale e ci vediamo domani nell'intervallo su Facebook, in diretta e poi a fine partita per i commenti su Salernitana Juve su questo canale.